Benissimo, in affitto nell'area indicata, essendo lei non residente, abbiamo in tutto 164 appartamenti. Beh, a me ne basta uno. Sì, metri quadri. Anche 100. Massimo 100. Rispondono a queste caratteristiche 22 appartamenti. Prezzo massimo? Beh, per fronte del mio budget è 600.000. 600.000. 600.000. Rispondono a queste caratteristiche dei 164 appartamenti, zero. E le 100.000 che vi ho dato? Ah, giusto. 100.000. Fondo perduto. No, scusi un attimo, eh. Se riesco i dati, un attimino, nel mio computer. Aspetti un attimo. No, scusi 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 un attimo. Grazie.